Mister Iezia, notore in seconda del Lanciano, allora mister, io mi soffermerei innanzitutto su quello che è il processo di crescita di questa squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato di avere tutt'altro valore rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime uscite siete cresciuti, l'avete dimostrato anche nel primo tempo qui contro l'Angolana poi forse anche qualcosa a livello fisico manca, i giocatori hanno pochi allenamenti è scesa l'intensità ma era comunque spiegabile Assolutamente sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un ottimo approccio alla gara purtroppo la condizione fisica è quella che è, abbiamo come dicevo 9 partite in 29 giorni, sono veramente tantissime però stiamo crescendo sicuramente, la condizione fisica cresce un po' pian piano, giocando, è chiaro che poi a un certo punto la stanchezza determina spesso i nostri finali di partita ma siamo soddisfatti per la prova dei ragazzi che sono stati veramente incobiabili anche oggi il primo tempo potevamo anche raddoppiare, è stato veramente un ottimo primo tempo poi abbiamo tenuto, abbiamo avuto anche qualche occasione nel secondo, qualche potenziale occasione anche nel secondo purtroppo due distrazioni ci hanno penalizzato e il risultato ci punisce Come si preparano? Queste partite sono 9 in 30 giorni appunto, ci ha detto, è davvero difficile prepararle? Assolutamente sì, purtroppo l'allenamento è saltuario, nel senso che si gioca tantissimo si cerca di recuperare al massimo e si prova a prepararle il più possibile nell'unico giorno fondamentalmente settimanale in cui si può lavorare un po' con la squadra Giocando sicuramente si migliorano alcuni meccanismi ma è chiaro che l'allenamento e la settimana tipo mancano tantissimo soprattutto quando una squadra è stata allestita anche all'inizio con tutti i giocatori nuovi praticamente quindi questa roba ci è mancata però stiamo crescendo, è chiaro siamo quasi alla fine è un peccato, avremmo voluto lavorare di più con questi ragazzi ma il covid non l'abbiamo comandato noi sicuramente Assolutamente ma comunque sono dei ragazzi di qualità, oggi abbiamo visto due su tutti i Lombardi e Di Benedetto che duettavano come se fossero poi in simbiosi Assolutamente, poi i giocatori di tecnica, di elevata tecnica quando si trovano in campo anche se lavorano magari poco insieme in allenamento perché non ci si allena sicuramente poi si trovano in campo e Lombardi, Di Benedetto come hai detto tu ce ne sono anche tanti altri questo poi si vede, avremmo voluto ripeto lavorare tanto con loro anche in campo anche da altri punti di vista però ci prendiamo quello che c'è, ci prendiamo la crescita della squadra sicuramente ci fa piacere, bravi ragazzi